se avete gatti a casa sapete che questa è la stagione in cui i gatti perdono un sacco di pelo diciamo più del solito io a casa in ogni stanza ho uno di quei rulli che appiccicosi che una persona si passa addosso e cerca di catturare quanti più peli di gatto possibile è però in questo periodo dell'anno quasi diciamo una battaglia persa perché i peli che perdono sono veramente tanti io ho una spazzola particolare pagata un sacco di soldi cioè un sacco di soldi pagata molto più di quanto una persona si aspetterebbe di pagare una spazzola per pettinare i gatti per una spazzola che riesce a catturare i peli del gatto che sono non in superficie ma sotto sono non proprio peli ma sono una specie di lanetta e ai miei due gatti sputnik e mazinga piace tantissimo quando io le spazzolo si stendono nel balcone pancia all'aria si girano a destra e sinistra così che non non salto nemmeno un centimetrino del loro folto pelo e in questo periodo che si avvicina all'estate la stagione calda lo faccio praticamente tutti i giorni e questa spazzola è particolare appunto perché riesce a raccogliere non lo so se si chiama sottopelo comunque però non quei peli lunghi ma quelli più 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 corti e una volta che io ho spazzolato anche solo per qualche minuto il gatto mi rimane in mano questo questa pallottola di lanuggine non sembrano nemmeno peli sembrano proprio una lanuggine e così siccome non altro da fare nella vita ho cominciato a arrotolarla nelle mani a farmela girare tra i palmi delle mano della mano delle mani per fare delle palline e diciamo che è un po' il principio lo stesso principio che si segue quando si fanno le palline di lana di lana grezza di lana cotta l'olio che c'è naturalmente sulla nostra pelle si mischia alla lanolina che c'è nel pelo degli animali e vengono fuori queste sfere abbastanza precise di un colore sempre grigiastro ma zinga è bianca a macchie nere sputnik invece grigia tigrata però le palline hanno sempre lo stesso color hanno questo colore grigio un bel grigio morbido allora ho cominciato a fare queste palline e siccome poi una volta che le faccio non so dove mettermele mi dispiace buttarle perché sono veramente perfette allora ho cominciato a poggiarle in un vaso che abbiamo sul balcone e ne avevo cinque sei e poi improvvisamente ieri non ce n'era più neanche uno ho chiesto a mio marito ma chi ha fatto ha tolto le palline del gatto ma neanche le ho viste manco visto ci fossero e poi svelato l'arcano perché stamattina quando mi sono alzata ho visto che le palline le aveva tolte dal vaso sputnik e ci stava giocando e le aveva sparse per tutta la casa e poi ci stava giocando e poi stava giocando i due